8. Il presidente della Regine Puglia, Michele Emiliano, ha fatto sapere che nel pomeriggio si recherà a fargli visita. Il professionista Salentino, come rende noto la sezione Lilt di Lecce, è monitorato dai medici del suo reparto di oncologia, che ogni giorno sono costantemente al suo fianco. Prosegue la sua protesta con la sola terapia di reidratazione tramite Flebo. Numerosi i messaggi di solidarietà da tutta Italia che continuano ad arrivare nelle ultime ore nell'abitazione dell'oncologo, nella speranza che Seravezza possa porre fine alla sua azione di protesta.